Camer, ristrutturazioni di interni, via Aldomoro 38, Sondrio. Sono ben 200 le fotografie ricevute dal Centro Studi Storici Alta Valtellina provenienti dal Museo Castello d'Albertis di Genova. Immagini realizzate dal Capitano Enrico d'Albertis, un girovaco pintor di Meridiane, assetato di conoscenza che in un'epoca di grandi scoperte fece tre volte il giro del mondo e due visite in Alta Valle nel 1894 e nel 1900. Ritratti in bianco e nero in mostra al Museo Civico di Bormio fino al 18 agosto, di grandissimo interesse storico, paesaggistico ed etnografico, scaturite dall'amore del Capitano Genovese per la montagna e le cure termali. È la più grande restituzione fatta dal Museo Ligure per quantità e contenuto, raccolto in una vita di passione, peregrinazione, studio. Ne va a piano titolo fiero Leo Schena, presidente onorario del Centro Studi. Per la direttrice del Museo di Genova, un senso compiuto ad un certosino lavoro di raccolta e catalogazione. Potere restituire agli abitanti di questa zona le fotografie che il Capitano d'Alberti si ha fatto venendo a costruire Meridiane fra il 1894 e il 1900 dà senso al lavoro di un museo che raccoglie materiale ma che se non lo condivide e non lo ridà a coloro che sono i protagonisti del passato, delle storie e che possono recuperare la loro storia, non ha motivo di esistere. Sono le meravigliose sale del Palazzo dei Nobili dei Simoni, risalenti al XVII secolo, ad ospitare foto di Borghi, del Passo dello Stelvio e del Foscagno, di Tre Palle, dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi. Immagini che il tempo non ha scalfito. Come Centro Studi Storici abbiamo potuto acquisire questo importante patrimonio che ora restituiamo a tutti ed è visibile a tutti. Invito alla visione della mossa perché ogni visitatore potrà trovare in alcune di quelle foto quel particolare, quel viso, quello scorcio che fa battere e fa tremare le corde del cuore. E il Capitano, che in sé portava la natura, il viaggio e il tempo, costruisce con sapienza quelle meridiane che regala in segno di gratitudine per l'ospitalità ricevuta, desideroso di condividere la sua passione per la ignomonica, la tecnica di costruzione di questi preziosi oggetti. Le meridiane del Capitano sono quattro in Alta Valle e sono state costruite Bagni Vecchi, Bagni Nuovi, Pensione Alpina di Livigno che oggi è l'hotel Alpina e Casa Turripiano, Casa Martinelli a Turripiano, sulla strada per andare in Val di Dentro. Il Capitano del Bernis le faceva con la squadra e col compasso. Dopo aver rilevato i dati sul posto, tornava a Genova, faceva il progetto, quindi assoluta precisione e competenza, uno dei pilastri della ignomonica. Opere d'arte come quella di Turripiano in Val di Dentro, un tesoro da preservare. È un pezzo originale che sta lentamente, dopo 100 e 8 anni, sta lentamente degradando, ma è facilmente recuperabile, con poca spesa.